P.S.R. Marche, i nuovi bandi per questa zona del cratere, che impressione ha avuto? Una bella impressione, comunque io ho fatto il P.S.R. quello vecchio, la 6.1 dell'anno scorso, bella impressione. Lei ha un'età molto giovane, pacchetto giovani può essere interessante? Sì, interessantissimo, speriamo che migliori in qualcosina, però molto interessante.